Le scuole italiane in ritardo cronico sulla riqualificazione edilizia, ma anche la manutenzione ordinaria, fa letteralmente acqua su tutti i fronti. La Lombardia e la provincia di Como non fanno eccezione, sebbene, e questa è la magra consolazione, facciano registrare dati meno negativi rispetto al centro e al sud del paese. Le immagini di queste settimane restituiscono un quadro assai deprimente. Basti considerare l'asilo di Via Varesina a Como, quartiere di Camerlata, diventato purtroppo esempio poco virtuoso di anni di ritardi e poca capacità di programmazione. Inutile oggi dare le colpi a questa o a quell'amministrazione. Lo scaricabarile porterebbe soltanto a ripercorrere a ritroso il susseguirsi di problemi, burocrazia, lungaggini e intoppi. La scuola, o meglio gli studenti, pagano decenni di cattiva o assente amministrazione dell'edilizia pubblica e questo è il conto. La cronaca di questi giorni di piogge intense racconta di bambini che fanno lo slalom tra infiltrazioni, muffa, secchi per contenere l'acqua e locali inaccessibili. E non si tratta di un caso isolato. A poca distanza non va meglio nelle primarie di Via Cuzzi e Via Giussani a Rebbio e di Via Isonzo a Prestino. E ancora, basti un esempio su tutti, l'asilo Sant'Elia, gioiello razionalista, chiuso dal 2019 e in cerca di futuro. In questo caso si somma il valore dell'edificio e le procedure richiedono inevitabilmente il parere della soprintendenza. Alle superiori, gli stessi alunni con il cellulare hanno documentato la situazione e il caso della magistri Cumaccini di pochi giorni fa. E probabilmente se parlassimo con ogni famiglia comasca tra città e provincia che ha un figlio in età scolare avrebbe qualcosa da raccontare. Infiltrazioni, riscaldamenti che vanno e non vanno, spifferi, palestre, laboratori non di ultima generazione. Gli edifici scolastici lombardi hanno in media una sessantina di anni e inevitabilmente portano i segni del tempo. Il PNRR è una risorsa preziosa per chi è riuscito a coglierla, ma attivare i bandi e seguire le procedure richiede tempo e personale. Ecosistema Scuola, il ventitresimo rapporto nazionale sulla qualità degli edifici e dei servizi scolastici di Lega Ambiente, diffuso a gennaio, ha passato il rassegna a 6.343 immobili di competenza di 93 comuni capoluogo. Al governo si chiede di accelerare per evitare che la scuola rimanga indietro e che aumentino le disuguaglianze. A Como intanto il Comune sta per presentare un piano di riorganizzazione dei plessi. Da tempo Palazzo Cernezzi sta analizzando i dati delle iscrizioni e le condizioni degli immobili, informazioni che, incrociate, forniranno la mappa delle chiusure.